And it's you that I want and need Bello ragazzi e ben ritornati dal vostro Baxter Baxter Dettagli vabbè fa niente Siamo su Winforfunny Siamo su Road to Division One Allora ragazzi oggi andremo Spero a vincere il titolo Volevo farvi vedere che Con la vittoria dell'altro giorno Ho preso un nuovo innesto Ovvero un cambio per il nostro Eder Che corre che è Cheidà Pagato 3500 crediti E' un ottimo innesto secondo me E spingela sulla fascia Tanto quanto ha fatto il nostro carissimo Eder Andiamo a cercare la partita ragazzi Ecco ragazzi ho trovato subito l'avversario Cosa molto strana si chiama Sdrogo Oh Zeko Luisa Adriano Bertolacci Sansone Diego Cappell Florenzi Rudiger Non lo so Goulam Reina in porta E Gintinetti Infassi Non lo so Vabbè c'ha quel Cdc Che gli abbassa la La L'intesa Sfortunatamente Perché è una bella squadra Complimenti al nostro FC Sdrogo Ce la possiamo giocare E ragazzi Stranamente Un'altra serie A Wow per Icardi Maurito 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 Di nuovo rientra Maurito Maurito Ucardi Palo Bene Iniziamo benissimo ragazzi Fantastico Vai contropiede qua Vai Icardi Vai Mauro Vai Maurito Vai Maurito Vai Maurito Oh Rigore Finta incredibile ragazzi Si Rosso addirittura Mamma mia Fauzi Si tipo Il rigore La palla si è tipo Fermata lì E il tipo è caduto addosso E' uno dei rigori più brutti Che potevo ricevere Questo Però vabbè Non va Oh Grande rigore Questo Maurito Nazionale Vai Tiro Vesi Tiro Vesi Pura zero ragazzi Anche se Soreina fa Io chiedo Io chiedo Sì Oh 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 Non cappelle Non cappelle Uh Ah è quello che non c'entra niente Gipson Ottimo Bravo Astori Non l'ho capito Sto fallo Però vabbè Vediamo un po' Se fa lo schema mio Come voglio dire Lo tira Questo No tira Mamma che culo Mamma due volte Che sedere Mamma ragazzi Non ho fatto niente Questo qua Ha preso palo E traversa Oh Oh Rudiger Vai Intervento Rudiger Non Rudiger Intervento Rudiger Si chiama Madonna Morata Se la porta avanti Col tacco Ma davvero Insigne Insigne Lorenzino Madonna Reina Che parata Cosa aveva fatto Morata Ragazzi Morata Un po' Un po' Di silato Vai Insigne Palo un altro Non ci posso credere Riccardi Prova ad andare via Riesce Forse Si Insigne Rigore L'altro No punizione Però questo è rosso Mi la butta fuori Secondo me Esatto Un altro Vediamo un po' Va Con Insigne Proviamo Va Vai Insigne Boom Insigne Lorenzino La chiude così Lorenzo Insigne 2-0 Che punizione Ragazzi Andiamo un po' Sotto al set No L'ha toccata anche lui Buona ragazzi Buona Quindi la divisione 8-9 È nostra Vinciamo il titolo E andiamo Sempre più In alto Sono contentissimo Ragazzi Veramente Ottimo 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 Diciamo che Pensavo di giocarmene Più in modo scarso Ma non sto andando Affatto male In queste partite Proprio per niente Sarebbe bello Riuscire a completare Con un altro youtuber Per Vedere un po' Come gioco Così anche con loro Attenzione Rudiger Nuova partita Incredibile 3543 kg per noi Buona Avanzo Yeah Titolo vinto Vi faccio vedere Il nuovo membro Del Wii 4 Funny FC Vale a dire Jose Pepe Reina Portierone Mi serviva Mi serviva come cambio Viviano Perché sto cercando Ragazzi di fare Tutti i vari Dei cambi Per far giocare Tutti E non usare Così tante forme fisiche Visto che Quelle finiscono E costano E Pepe Reina Costato poco Come avete visto 2400 gradi Ed ha Delle statistiche Fenomenali Speriamo che ci possa aiutare Nella scalata E come vedete Ho messo a posto Anche La panchina Con i vari cambi Che posso effettuare Qua non c'è niente di male Sui giocatori Tranquilli Tranquilli E direi di andare Ragazzi Con la prima partita Della divisione 8 Ecco ragazzi Trovato il primo avversario Si chiama Pesolotto Kratos War Speriamo che sia Una bella partita La nostra prima partita In divisione 8 Vediamo un po' Che squadra C'ha il nostro amico Spero sia una bella squadra Oh finalmente Ero una Della sera seria Finalmente Deve essere una bundes Vedo Boateng Subotic In difesa E altre Mi ricordo i nomi Degli altri Mannaggia Bella squadra Anche questa Ragazzi Buona Zulam Stare dalla difesa Zulam Un po' Crosso in mezzo Zulam Morata Gol Oddio Iniziamo Iniziamo da Dio Madonna Il grosso Yeah Morata Incredibile Sì 1 a 0 Via Appunto Madonna Che cross Che piedi delicati Per il nostro Morata Incredibile Ecco ragazzi Consigliatemi Un terzino Destro Da mettere Magari come Cambio a Montoya Porco Giuda Che bomba Ragazzi Consigliatemi Un terzino Destro Che costi poco Magari Non è che Ma arrivate Con Comunque Della serie A O italiano Non Roba Assurda Non Bruno Alves Diego Alves Uh Zulam Torna Ti prego No Non ci credo Mamma mia Meno male Che c'ha i piedi brutti Questo Astori No Cosa avete fatto Uh Non fate Cappellate Non ci credo Dov'è passato Pano Che fortuna No Oh Accorciali Eh ragazzi Ho sbagliato Ho sbagliato 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 Salto al 45esimo Stranamente No Vai Vai Morata Vai Morata Vai Morata Oddio Morata Oddio Morata Oddio Morata Rientra Rientra Morata Rientra Rientra Torna André Oh Morata Rigore Arbitro Morata Morata Oddio Mio Dio Morata Morata Nuova partita Sky Buona 2 a 1 Faffanbrovi Oh lagga Ragazzi Se ne è fatto male Uno dei suoi Oh Rudy Che Dai Ma cos'è Porco Giuda Ciupo Dai Keita Dai Keita Dov'è preso per un motivo La velocità Keita 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 Se c'entra Keita 3 2 Grande Keita Primo gol Per noi Per lui No Eh Ho capito Ti per Morata Che ha campo libero Completamente Perché Icati si è fermato Guardalo Guardalo Insigne Ma non ci credo Non ci credo Palo Cramoroso No 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 Tutte balle Tutte balle Morata Tutte balle I pezzi di Morata I pezzi di Morata Morata Siamo in una Moda Fantastica Non ci ferma più Le luce 4 a 2 Guarda Keita Guarda Keita I pezzi di Keita Keita Rientra Keita Keita Se c'entra Se c'entra La passa in me Finta incredibile Keita Che tiro di merda Morata Poker di Morata Emanita Emanita Che c'entra Che c'entra Il pit Ho sputato sulla tele Pallone timido Qui Reina Ma esci No Ragazzi ha fatto gol Castro 5 a 3 Eeeh Vittoria Ragazzi Primi 3 punti Divisone 8 Questa squadra Mi piace Sempre di più E' una cosa incredibile Morata 9.7 Incredibile Morata 9.7 560 Per noi E avanziamo con l'altra partita Ecco ragazzi Trovato Real Milan 92 Balotelli Keita I turbe De Jong Gabbiadini Buonaventura De Silvestri Zapata Diego Lopez Importa Il difensore città Il terzino sinistro Non mi ricordo chi sono Non dovrebbe essere Erto Il terzino sinistro Dovrebbe essere Gastrofaccia Fallo Beh ragazzi Casualmente Un'altra serie Allora ragazzi Ho apportato Un po' di modifiche Alla squadra Voglio provare Cioè Non chiedo Voglio provare Voglio far riposare Un po' i cardi E ho messo Zazza E ho Cambiato Un attimo Astori E ho provato Rossettini Mamma mia Già traversa Al periodo Questo Annaia Oh Che è sta roba Madonna Rossettini Che fa Mamma mia Rossettini Mi sta già facendo danno Eh Due minuti di recupero Ragazzi Siamo al 45esimo Possiamo usare A nostro favore Ma vi ricordo Che lo script Non c'è Ma c'è per lui Invece No Oh Va 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 Te pare Cosa ho detto Te pareva Te pareva Dove la tira questo Sì Sì Pepe Reina Rimane fermo Grandissima parata Di Pepe E siamo ancora Solo 0 a 0 Vuole fregarmi Con il pallonetto Ma io l'ho fregato Con la pelata Del potere E devo stare occhio A Rossettini Perché Rossettini Se mi fa cagate Lo meno Chi è qui Bulam Per Rossettini Non fare minchiate Rossettini Oddio Rossettini Come se ne va Rossettini I pezzi di Rossettini Rossettini Incredibile Cosa la ti pensa Non ci posso credere Uomo Pippa Sky Ragazzi Incredibile Rossettini Si sente Cristiano Ronaldo Si sveglia Sudato Ed è Rossettini Oh Morata Ruba palla Morata 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 Alvarone 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 Perché Ragazzi Io Ve lo dico Voglio portarmi a casa Questa Road to Division 1 Ed essere Uno dei primi Youtuber A finire Questo Tifa 16 Con la Road to Division 1 Qua lo dico E qua lo faccio Siamo venuti Fin qua Siamo venuti Fin qua Per vedere Segnare Rossettini Oh Oh Rossettini Vai Brascikoski Si Ne portiamo a casa Un'altra E andiamo a 6 punti In questa divisione 8 Inizia a perdere Già la voce Pepe Reina Woparida Sky Grande Poi Morata 8 Forti Glam 8.1 Grande barita Anche di Glam Ragazzi Molto bravo Grande Applauso Per noi E questi 6 punti Importantissimi Ragazzi Direi che L'appuntamento Di oggi Sul Road to Division 1 Può finire qui Se vi piace Veramente Questo Road to Division 1 Come sta piacendo a me Perché stiamo facendo Delle cose Incredibili Contro ogni pronostico Lasciate un commento Mi piace Se mi date qualche consiglio È ben accetto E vi ricordo Di lasciare Anche Una bella iscrizione Che male non fa Quindi ragazzi Da Baxter E da Road to Division 1 È tutto Bella